Molocchio, un piccolo paese dell'area preaspromontana, ha un passo dai monti e votato all'agricoltura. Un comune come tanti, verrebbe da dire, se non fosse per il fatto che nasconde in sé una qualità particolare, che negli ultimi tempi sta destando l'interesse di molti scienziati italiani e non, ovvero la più alta percentuale di cittadini centenari che si sia mai vista. Fedela alla sua natura, proprio negli ultimi giorni, questo comune ha avuto modo di festeggiare un altro compleanno importante, quello di Maria Assunta Matalone, per tutti zia Assunta, che il 21 maggio ha soffiato le sue cento candeline in compagnia di almeno quattro generazioni, tra figli, nipoti e pronipoti, e tutti straordinariamente riuniti per l'occasione. Alla messa di benedizione ufficiata dal parroco del paese, Don Giovanni Battista Tiglieci, ha fatto seguito il pranzo celebrativo che ha visto ospite anche il primo cittadino, Beniamino Alessio, come al solito, presente in prima persona per rendere omaggio alla sua anziana concittadina. Cent'anni portati decisamente bene quelli della zia Assunta, è un'esistenza fatta di lavoro, gioie e sacrifici, premiata dalla longevità e dall'affetto dei suoi cari, nonché di tutta la comunità molocchiese.